Bella ragazzi, benvenuti quest'oggi in questo nuovo video E oggi vi presento la recensione di Di Maria in forma Allora, voglio dire che l'ho usato come ATD Non come RM, quindi ADD E quindi alcuni dei pro e dei contro Sono influenzati appunto da questo cambio di ruolo Prima di tutto volevo indirizzarvi al link in descrizione di TVG Dove potrete comprare i crediti a prezzi ribassati A prezzi ribassati appunto Sono veloci, economici e sicuri Ve lo assicuro io E c'è anche la pagina Facebook Dove organizzano molto spesso tornei Quindi andate e controllate Allora, io direi di iniziare Non farò, non darò più voti alle statistiche E velocità bla 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 Come facevo prima perché non generalizzavo abbastanza Diciamo, non è che non generalizzavo abbastanza Però non mi piacevano molto Ora vi dirò semplicemente il pro e contro Che io ho riscontrato con i vari giocatori Ecco Allora, il primo contro è di sicuro la velocità Che non ho molto capito Sulla carta io vedo 90 Ma poi anche 92 di accelerazione e 92 di sprint speed Sulla carta appunto vedo 90 Ma poi se vedo le statistiche vedo 92 di accelerazione e 92 di sprint speed Questa non l'ho molto capita Perché sinceramente Dalla carta NIF ha sempre 90 E dalla carta IF sempre e comunque 90 E non l'ho capita sinceramente Però vi posso assicurare che 90 è e 90 si vede Assurdo Se uniamo l'agilità al bilanciamento A quella che è la sua velocità effettiva È assurdo Le cavalcate con questo giocatore Ve lo dico Sono il pro più grande È bellissimo andare a cavalcare E scartare tutti con lui Perché madonna È micidiale È micidiale È uno contro uno L'avversario salta sempre Infatti il suo secondo dribbling Eh sì Il suo secondo pro è il dribbling Dribbling Vediamo un 90 di dribbling effettivo E 89 di controllo palla Se parliamo di dribbling Parliamo di un giocatore Che l'uomo lo salta E molto facilmente Vediamo anche 4 stelle skill moves Quindi anche con l'aggiunta di qualche skill All'occorrenza Lui il giocatore lo salta Anche perché è molto rapido Prendo per esempio un Ronaldo Ciopp Lui il Ronaldo Ciopp Lo fa velocemente Io è la skill che uso di più praticamente E lo fa velocemente Oltre al fatto che Tutto il resto delle skill Lo fa velocemente Perché è un giocatore veloce Non lo devo ancora ripetere Non lo so Penso l'abbiate capito Ecco Quindi il secondo pro Velocità dribbling E controllo palla Mentre il primo pro Come ho già detto È velocità E agilità Agilità 94 Che sì È proprio agile Agile Nel dribbling Metto anche le 4 stelle Skill moves Quindi tiro Velocità Sì tiro Velocità e dribbling Pro assoluti Di Di Maria Terzo pro Invece è La potenza tiro Allora Allora Sulla carta vedo 95 95 E 95 E ragazzi Assurdo Ha un tiro di sinistro Allucinante Allucinante Non devo dire altro Davanti alla porta Tra l'altro E questo è un altro pro La finalizzazione È micidiale Perché non sbaglia mai Non sbaglia mai Io Clicco Ma non è che indirizzo Clicco È tirangolatissimo Non l'ho capita Però è un pro questo Anche se non lo capita È un pro Quindi Quello Della finalizzazione E della potenza tiro È buona L'unica cosa È Un po' La precisione Del long shot Io vedo 84 Però Molto spesso I long shot Sono molto potenti Sì Ma sono molto Imprecisi Direi molto Perché Non è Cioè Un tiro su Un long shot Su 6 Entra Un long shot Bel long shot Entra Quindi Contro direi Long shot Però Per quanto è riportato Sulla carta Perché se io avessi visto Un 75 Non mi sarei meravigliato Ecco Non mi sarei stupito Insomma Anche se Vabbè Lo possiamo mettere Come no Insomma Poi abbiamo Il posizionamento In area goal Questo è uno dei suoi Contro E dei suoi pro Perché Lui ha un posizionamento Di merda A caso dei suoi Work rate Però è sempre Al posto giusto Al momento giusto Quasi fosse Un attaccante Ve lo giuro Ed è sempre In area goal Sempre Sempre E questo è Un pro Ora passiamo E contro E uno dei contro Assurdi Di Di Maria È Il fatto che lui Sia sempre Fuori ruolo Allora Questo perché Ha 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 Di Work rate Però Però Io Quando Non lo so Mi giro a destra Per Daiela Lui non c'è Quasi mai E questa Questa cosa Mi rompe Abbastanza i coglioni Come potrebbero Rompere il cazzo Tutti voi Come Ed Ed è ottimo Perché Haig Haig Per un ed Sono I work rate Perfetti Soprattutto Non lo so In un 3-5-2 Sono assurdi Però Se io lo utilizzo Come atd Voglio che lui Stia in attacco E basta Non che ritorni E quindi Questa è Uno dei suoi contro Tranquilli però Che Se voi Comunque sia Siete in area Siete in zona goal Lui c'è Quando invece Volete impostare La manovra Lui Stenterà Non lo troverete Quindi ve lo dico già E basta Quindi uno dei contro Sono appunto Il work rate E il sempre fuori posizione E l'altro contro È le due stelle Piede debole Di destra Fa schifo Ma non è Tanto Un contro Perché Lui è un atd Si accentra E tira Come faccio di solito io E poi invece L'altro contro E ultimo È la strength È un 80 65 di strength Mi sarei Aspettato Qualcosina di più Dalla strength È molto facile Che perda il pallone In uno scontro È molto facile Che perda il pallone In uno spalla Contro spalla Purtroppo Però Vabbè Questi appunto Sono i propri contro Di Di Maria Spero che Vi sia piaciuta Questa recensione Vi esorto a lasciare Un bel mi piace Un bel commento E dirmi cosa ne pensate Se l'avete provato Costa Io l'ho pagato Circa 290.000 No 270.000 È rivenduto Un giorno dopo A 290.000 Quindi ho fatto L'affare Ci ho guadagnato Circa 10.000 Crediti Anzi L'ho venduto 295.000 Ci ho fatto Ecco L'affare Vi esorto a lasciare Un mi piace Se arriviamo A 150 Mi piace No Vabbè 130 mi piace O 120 Insomma Vi farò uscire La recensione di Pedro Second informo Già le clip Ma Ecco Già domani Ecco Io sono Flash2Gather E vi rimando Al prossimo video Bella Ciao 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 Grazie.